Il Nembutat È sotto effetto del Nembutat Un tranquillante prodotto dalla Abbott nel 1956 Beta ricorderà questa scena come se l'avesse vissuta realmente All'improvviso un rumore, forse un'automobile È già accaduto, deve ancora accadere Beta è molto spaventata, si ferma dinanzi ad un virupo La donna la raggiunge Gli effetti del Nembutat dureranno per qualche ora Per poi sparire di colpo Io mi chiedo di chi è veramente il mio corpo Di chi è la mia malattia Io mi chiedo di chi è la mia malattia